Lo ha dimostrato nel pieno della crisi l'aumento eccezionale repentino del differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e tedeschi. Ce lo rammenta l'incremento osservato negli ultimi otto mesi. Ogni anno lo Stato italiano si rivolge ai mercati per collocare titoli per circa 400 miliardi. L'avvio di una diminuzione continua e tangibile dell'incidenza del debito sul PIL non deve essere ritardato. Non vanno ripetuti gli errori del passato. L'insufficiente riduzione del rapporto tra debito e prodotto realizzata nelle fasi economiche favorevoli ci ha costretto a correzioni procicliche durante la crisi.